La la lino, la lino Comodità, non ce ne sarà quella che c'è perché è una barca d'epoca oltretutto ha più di un secolo quindi Vennetto balla molto Balla molto, purtroppo basta un po' di mare che incomincia a onteggiare e prima che si ferma il mal di mare è assicurato per chi non è abituato Massimo è il chef del Black Swan Ha piuttosto di scegliere tutte le mani a mano Quindi mi ha chiesto di prenderlo ai migliori mercati di Venezia Venniamo un po' di rucoletta Vediamo un po' di rucoletta e gli facciamo un trito di rucola Anche se l'avete un po' moscita Ci sarebbero delle prugnette sangue di drago Proviamo Buondì, ti negati più niente sangue di drago? Sangue di bue, no di drago I draghi non ci sono più codici, è meglio di bue Grazie Andiamo a cercare la carne Buondì Buongiorno Allora vorrei del manzo molto tenero, delle fettine Non molto spesso perché c'è da fare degli straccetti Perfetto Non troppo sottili perché mi si sfilacciono troppo Quindi una via di mezzo Sottili però non troppo Esatto Sì, sì, va benissimo Ci vediamo, arrivederci Senti, grazie un sacco Allora ci vediamo domani mattina Ci vediamo domani mattina Io la metto in frigo, vi aspetto per domani sera a cena Sono traditante Ci vediamo Mangiate poco perché poi se no vi lascia la roba Ci vediamo, ciao Ciao